Bene comandanti, io sono Comandrecox77 e dopo circa due anni e mezzo di gioco ho resettato il mio salvataggio di Elite, quindi stavolta vi beccate la sigla lunga. E non voglio sentire la mentira. Fai sì! 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 Cazzo dietro? Ok Ok Pitch Ok Pitch Pitch A Ok come on decrease the throttle to resume a stationary position hello can also be pulled back from zero to engage reverse thrust as before push the throttle in the opposite direction to cease moving I can imagine all ok input's confirmed looks like you've got the hang of individual controls let's see if you can put them all together your next task is to guide your ship through a series of checkpoints head towards the course, following the target indicator the course weaves through an orbital structure and is designed for the novice pilot ha 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 ok, something for novice fly through the center of the first checkpoint you'll notice that they change color as you fly through them and we're off there's no time limit, so maintain a comfortable speed while you familiarize yourself with the controls ok ok non c'è tempo limit, quindi possiamo andare piano, possiamo andare forte, possiamo andare come vogliamo rolling and pitching together is the most efficient way of turning rapidly ok 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 immagino ok vedete questa qua la manetta sta spiegando che se mantenete la manetta nel blu quindi la manetta diventa blu la nave girerà più velocemente sarà più manovrabile sarà più maneggevole sarà più facile non è più nemmeno è che stanna che stanna che stanna uuuhuu Ok, avventiamo perché lui dice che questa è la curva stretta. La funzione del船 è aumentata la sua velocità, ma usate il risultato. Il risultato. ok siamo tutti bravi ok sensori ok sensore ok 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 e ok 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 Cargo Landing Gear Vai 4 4 3 2 1 Engage 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 4 5 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 4 5 5 5 6 7 8 9 5 5 5 6 6 6 7 7 9 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 Grazie a tutti i nostri spettatori 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 Grazie a tutti... Grazie a tutti... Grazie a tutti... Grazie a tutti... Ma nooo... Ah non posso allontanarmi... Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti... Ok... 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 certo e adesso oggi ok ok non ci siamo moduli non ci siamo moduli non ci siamo moduli non ci siamo moduli non è ancora la vera proprio nave nuvi piloti ok 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 C'è un'acqua. Il traile che stiamo all'interno è FSD-WAKES. Il vostro spazio è un'acqua anche un'acqua. Il posizione di ogni corrispone è corrispondente con le loro sensore dei sensori di iconi. In un momento, noi ci saranno il processo di doccazione. Questo ciò di doccazione e un approccio di doccazione di doccazione e un approccio di doccazione di doccazione. Ok. Ok 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 They provide mission boards, the commodities market, a number of specialised contacts and various ship facilities Most private business is conducted via the starboard services interface I recommend familiarising yourself with this screen when docked Ok Ok I'm trying not to block the access corridor We'll be using the docking computer for this landing You can always dock manually in future of course But practice in a training simulation first Ok Whichever method you use All ships must seek docking permission before approaching a landing pad Ok To request docking permission Open your external interface panel And select the contacts tab Then select Coelho station in the list Followed by request docking in the information panel Ok Navigation, Transliction, Contacts Coelho station Which is already selected And go to request docking Request docking Request docking And reach the port You've assigned landing pad 3 The compass will point towards your designated pad Ok The ships need to be within 7.5 km of a starboard For a docking request to be considered So I'm going to enter 75.5 km of distance from the station Because my request of docking will be considered The docking computer will now demonstrate a safe landing procedure Let's review what is doing The landing gear must be deployed The related dashboard indicator lights up if this has been done Landing gear What is happening? What is happening? No, we need to remember What is happening? let's check it down In a moment The sensor display will switch to the precision approach display Which helps you accurately set belly down on the landing pad mamma mia seppi? come un figlio ho la licenza oh seven oh seven ok con calma siamo calmi siamo calmi quindi in sostanza da questo momento in avanti come me chiunque devono aver fatto questo fantastico microscopico esame uomo diventerà comandante welcome to the pilots federation allora planetary ops o loadout allora i planeti li faremo dopo quindi facciamolo allrounder perchè allora vedete che in realtà sono esattamente hanno le stesse identiche specifiche ma prendendolo planetario ci sono solo 2 tonnellate di cargo mentre prendendolo allrounder ci sono 4 tonnellate di cargo perchè? perchè in questo in questa versione nella versione planetary ci sono i moduli occupati dall'SRV dal modulo di esplorazione dei pianeti che faremo poi adesso noi lo stiamo facciamolo così perchè è così cargocapacity 4 tonnellate 4 tonnellate ci piace così continuo come si chiama la nave? non ci avevo pensato si chiama new begin la shale plate la shale plate la ck001 continuo ci sto bam e da qui inizia tutto sommato il gioco il gioco il gioco il gioco ok fantastico ok 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 fantastico allora in sostanza come nuovo comandante siamo armless, pennyless, armless nel combattimento nel trading, nell'esplorazione abbiamo fantasticamente mille crediti ci saranno da fare ovviamente i training moduli ah siamo proprio besti bene five groups o due pulse laser no va bene va bene va bene start for service questa qua è la stazione di partenza che liberi o due i i i i i i i ah ce li ho oh bello allora di che coro lo facciamo ovviamente questo ah però qua non c'è nient'altro va bene così bec poi sull'olomi andate a costruirvi la faccia ovvero il corpo del vostro comandante bello casuale lui allora suite faccia questa outfit nessun outfit ce l'ho ascoltato va benissimo sono nell'emergenza facciamolo ma va bene chi se ne frega adesso chi se ne frega va bene così salviamolo così va bene così va bene così ha salvato il comandante bello lui bello ok bravissimo bravissimo ok ci sono missioni da accettare per curiosità ci sono missioni da accettare ma adesso andiamo a fare la missione che ci è andato facciamo solo quella missione lì quindi la facciamo proprio facile facile eh la facciamo proprio facile facile eh ma giusto perché vorrei mantenere questo posto come base ma siamo qua a bookmark quello special va bene il poeta in inferno così però è facile otto comunque fa tutto da solo da no accelerando l'auto lancio vedete che in basso a destra quel rst sys web questa roba qua sistema armi engine lo si fa con le freccette del pad digitale un colpo in basso resetta le macchette tutte e due pip quelli sono i pip sistema engine weapon vedete la velocità che stiamo viaggiando 161 aumento engine chiaro devia l'energia creata dal dal motore sui vari sistemi sys system sono gli scudi engine sono i gutori weapon sono le abbe andiamo 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 a drumming a non non ungüchte il sistema è questo il scanner pad oh guarda qua clic è dietro di noi ok lo capisco che è dietro di me vedete il pallino in basso e sinistra però lì è vuoto quindi vuol dire che la destinazione è dietro di me nel momento in cui la destinazione è dietro di me il pallino diventa bianco pieno accelera il cannone se potete usare e fa tutta la zona non devo fare niente personalmente questo è come parte il gioco dando tutti gli aiuti possibili immaginabili personalmente io non non mi piace preferisco guidarla però così non è male cioè più che altro fai altro così è un po' più gioco cazzieggio per capirci siamo online comandanti 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 esatto ai locali diamo un bel messaggio benvenuto O7 vediamo quanti mi rispondono se sono nuovi giocatori magari non risponderanno O7 è il saluto O7 che vuol dire il saluto l'alto o questo vi capiterà spesso se avete una connessione inter di merda come la mia ok va bene così andiamo andiamo che figata carino però carino sidewinder carino 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 vediamo un pò il comandante dentro non si vede ah l'annato i riflessi va bene lo stesso allora la missione che stiamo trasportando mi danno 10.000 crediti se pianifico una rotta e vado nel sistema dei droni e vado fino al monson dock che è questa base qui siamo a 6 km quadrata sinistra contact monson dock ora teoricamente se tolgo la manetta parte da solo ok ovunque parcheggio prima è meglio io a mano eh si soprattutto più in fretta quindi sostanza una volta che avete fatto la richiesta togliete disaccelerate che dovete essere tardi lì con il mio controllo da solo devo dirvi sinceramente che fare queste cose a mano è molto più libero tutti tutti grandi passi in basso a sinistra come lo so un giorno ve lo spiegherò ok 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 Ok, lo dice anche il gioco Fate i tutorial, si trovano qui Adesso io non li faccio, io adesso torno nel mio hangar Per oggi va bene così Comandanti, questi sono i primi minuti iniziali veramente di Elite Dangerous Io non so, anche i giocatori che come me l'hanno giocato, ci giocano da anni E questo inizio forse io non l'avevo mai visto Non l'avevo mai visto e sinceramente... Sì, niente male Bravi Frontier Bravi Frontier Elite Dangerous è un bel gioco Fai 6 comandanti, ci vediamo in bolla con un nuovo account No, ci vediamo in bolla con quello originale Con questo facciamo solo i tutorial Nei prossimi tutorial, se siete interessati Andiamo a fare i tutorial di Elite Dangerous E vediamo cosa ci fa fare Alla prossima E che dire comandanti, a me è piaciuto Quindi ci vediamo prossimamente per i prossimi video Mi sta tornando pesantemente la voglia di giocare lì Perché è veramente un bel gioco E quindi se devo fare i video sui Free Carrier Devo mettere una parte 5 miliardi Perchè sono caro le Free Carrier Porco Io ti ho preso il Carrier Perchè sono caro